Sono a Gori, la città natale di Stalin, e questo è il museo degli Stati. Il museo di Stalin. Mentre piove, piove, questa è la carotta che usava Stalin per portarsi. Museo storico ed etnografico Stalin. Che spettacolo questi scocci con la cattedrale e la fortezza. I begli scocci di Gori. Un'altra chiedettina e poi la fortezza, stupenda. Sono incredibilmente belle queste chiese ortodosse. Scocci. Monumento dedicato ai caduti. Della guerra dell'Ossettia del 2008. Un bellissimo centro storico. Bellissima la fontezza, bellissima. Un bellissimo centro storico di Gori. Mentre qua piove, ragazzi. Veramente stupendo queste chiese. Stupendo queste chiese. I stupendo scocci di cielo. Piazza principale, piazza principale di Gori. La stazione del bus e il castello, bellissima. Lo stadio. bellissimo che ho proprio costume e sulla forzezza che regnerà il fondo